Sulla rassegna T-Dor, dedicata alle tematiche LGBTQ+, si scatena la polemica a Verbagna. La regista Silvia Di Gregorio, organizzatrice del Festival Muttolina, ha denunciato in un post social che il Comune ha negato il patrocinio gratuito alla rassegna. La polemica è stata raccolta dal capogruppo del PD, Riccardo Brezza, che ha parlato di un clima oscurantista, chiedendo risposte all'assessore alla cultura Luciano Paretti, il quale ha ribattuto che il patrocinio in questione non è mai stato chiesto e ha rimandato al mittente le accuse di omofobia. Alla polemica poi nuovamente ha risposto Brezza, invitando Paretti a non arrampicarsi sugli specchi e ha chiesto di rispondere alle domande poste. Dopodiché è intervenuta anche l'associazione Arcigay Nuovi Colori, vice a Novara, che si dice disponibile a rivedere il progetto e a collaborare per assicurarsi che il festival possa essere realizzato nel rispetto dei valori di inclusione e accoglienza che Verbagna, come più volte affermato dall'assessore, promuove e a chiedere quindi formalmente il patrocinio. Nel frattempo il comune di Omegna si è detto disponibile a ospitare la rassegna.